A questo punto vediamo un'implementazione delle tabelle hash basate su indirizzamento aperto con hashing doppio. Quindi stiamo lavorando su una struttura dati e creiamo la tabella hash e creiamo tre variabili. Due sono vettori che contengono le chiavi e i valori qualora siano inseriti e m è la dimensione della tabella così come viene inizializzata. Infatti quando creiamo tramite il costruttore la tabella hash abbiamo un parametro dim che è la dimensione e quello che andiamo a fare è creare due vettori di dimensione dim da 0 a dim-1 e inizializzare tutti questi elementi, in modo particolare la chiave perché in realtà il valore non ci interessa in questa sede, con il valore nil che significa cella non occupata. Una volta che ho creato tutto questo posso ritornare alla struttura dati così ottenuta. A questo punto vediamo la funzione scan che non fa parte dell'API della tabella hash, prende in input la chiave da identificare, cioè da trovare la posizione all'interno della tabella, quindi ritorna un indice intero, non il valore associato, e prende in input un valore booleano insert che ci dice se questa è un'operazione di inserimento oppure no. Allora, la prima variabile che definiamo è del POS che è la posizione della prima casella deleted. Perché la prima casella deleted? Perché l'idea è che qualora noi dovessimo inserire e non trovassimo la chiave che abbiamo cercato, andiamo a restituire la posizione della prima cella in modo tale che future richieste possano trovare questo valore il prima possibile. Poi abbiamo I che è l'indice del numero di ispezione, ok? E questo significa che all'inizio è 0, l'ispezione è 0, poi l'ispezione è 1, 2, 3 e così via. E poi abbiamo J che è la cella, la posizione attualmente analizzata. Viene initializzato col valore H di K, dove H è la funzione hash di base, è quella che ci dice il punto di partenza in cui è da ricercare, e K ovviamente è la chiave che stiamo cercando. A questo punto inizia un ciclo che terminerà qualora o trovo la chiave che sto cercando, quindi andrò avanti se non ho trovato la chiave che sto cercando, o trovo una posizione NIL, che significa che non è più possibile andare avanti perché non ho trovato la chiave che sto cercando, oppure nessuna delle due condizioni precedenti si è verificata e il numero di ispezioni raggiunge M, il che significa sostanzialmente che ho ispezionato l'intera tabella senza provare quello che stavo cercando. A questo punto in ciclo while queste due righe che vedete qua sono quelle che ci permettono di andare avanti, quindi calcolano, sommano 1 all'indice, al numero di ispezioni e per calcolare la prossima cella utilizza una seconda funzione H' di K che è l'offset che vado a sommare alla posizione che stavo cercando. In questo modo, nella posizione zeresima, non avrò questo offset, poi avrò questo offset una volta, due volte e così via, il tutto calcolato, modulo M ovviamente per tornare all'interno della tabella. Quello che non ho spiegato sono queste due righe qui che sono il meccanismo di identificazione della prima casella deleted. Quindi kdj uguale uguale deleted significa che ho trovato una casella deleted e non avevo trovato una casella deleted before perché il valore che viene inserito all'inizio M è un valore, diciamo, sentinella che sta a indicare che non ho ancora trovato una posizione compresa fra 0 e M-1. Potrebbe anche essere banalmente il valore meno 1 se questo in qualche modo gli è più chiaro. Se queste due condizioni si verificano, vuol dire che ho trovato la mia prima casella deleted e quindi vado a scrivere del post uguale a j. Ok? Quindi, una volta terminato questo ciclo, ci sono due possibilità. Allora, se sono in condizioni di inserimento e non ho trovato la chiave, quindi non ho trovato una chiave da sovrascrivere e del post minore di M che significa che ho trovato una posizione deleted prima, allora quello che restituisco è il valore del post, quindi la prima casella deleted che ho trovato. Altrimenti, ritorno l'indice j che rappresenta l'ultima casella, l'ultimo indice che ho guardato e se la chiave non è stata trovata, può essere un valore fittizio. Adesso vediamo come viene utilizzato. Allora, vediamo come viene fatta la lookup e la insert. Ovviamente, nel caso della lookup, si passerà il valore false che sta a indicare che non è un'operazione di inserimento. Nel caso della insert, si passerà un valore true che sta a indicare che è un inserimento. In entrambi i casi ottengo un indice che viene restituito dalla funzione scan. A questo punto, nel caso della lookup, ho due possibilità. Sto cercando, ho trovato quello che sto cercando e questo è rappresentato dal fatto che la chiave nell'indice i è uguale alla chiave che sto cercando e allora ritorno il valore associato a quella chiave, altrimenti ritorno nil che sta a significare che l'oggetto non è stato trovato. Se sto facendo un inserimento e ho trovato una casella vuota oppure ho trovato una casella delit oppure ho trovato una casella che già contiene la chiave k, in tutti questi casi vado a sovraschire il valore k, il valore v sulla posizione iesima del vettore k e la posizione iesima del vettore v rispettivamente. Ci sarebbe anche un else che sta a rappresentare la condizione in cui la tabella hash è piena. Cosa significa? Significa che non ho trovato una casella nil, non ho trovato una casella delit, non ho trovato una casella k, non ho trovato caselle a disposizione dove andare a scrivere il mio valore k e quindi dovrò ritornare un qualche tipo di errore. questo potrebbe anche essere, diciamo, verificato prima di fare una ricerca del genere se io mantenessi informazioni sul numero di chiavi effettivamente registrate nella tabella. Allora a quel punto, se il numero di chiavi supera, ha raggiunto m, posso già ritornare che è impossibile fare un inserimento se sapessi che il valore che sto cercando non è presente nella tabella stessa. Infine vediamo la remove, di nuovo la scanna viene passata col valore false, di nuovo i contiene l'indice che è stato trovato, qui la condizione è ancora più semplice, o l'ho trovato o lo cancello, o non l'ho trovato, non devo fare assolutamente nulla, se l'ho trovato metto deleted e non nil nella posizione per quello che avevamo detto nella parte precedente e poi metto nil per, diciamo, cancellare il valore associato se c'è garbage collection, questo mi permetterà di evitare problemi di memoria. E questo conclude la descrizione della tabella hash con indirezzamento aperto, doppio hashing. Vediamo adesso un riassunto delle complessità e ci concentriamo su tre, diciamo, soluzioni principali, lashing con indirezzamento aperto lineare, lashing con indirezzamento aperto doppio e le liste di trabocco. La complessità è misurata in base ad alfa, che è il fattore di carico, e nel caso di indirezzamento aperto questo valore deve essere compreso fra 0 e 1, 1 escluso. Nel caso delle liste di trabocco può essere un qualunque valore maggiore o uguale a 0. Qui vi ricordo I alfa è il costo di una ricerca con un successo e S alfa è il costo di una ricerca con un successo. Queste due, quattro formule che vedete qui non ve le vado a illustrare perché sono abbastanza pubblicate da derivare, vediamo dopo in un plot qual è il risultato, vi ricordo che abbiamo ricavato queste, 1 più alfa, 1 più alfa mezzi, dove quell'1 sta a significare l'accesso che devo fare alla memoria per iniziare a guardare la lista che sto scorrendo. A questo punto vediamo il grafico, vedete, provo a fare una cosa più o meno dritta, che questa, diciamo, la regione che sta a sinistra di 1 rappresenta la regione che è ragionevole sia per le liste di trabocco che per l'indirizzamento aperto, la parte che sta a destra vale solo per le liste di trabocco. Vedete anche che i valori verso l'1 tendono a, diciamo, infinito e che non ha senso perché ovviamente al limite farò M operazioni perché andrò a cercare in tutte le caselle possibili, però il punto è che fino, diciamo, a circa 0.5 i valori che ottengono sono più che ragionevoli e anzi, vengono, diciamo, si cerca di mantenere il livello di fattore di carico inferiore a quel valore. A quel punto, vedete, siamo tutti in un'area che è ben inferiore a tre accessi memoria per la ricerca della chiave, sia nel caso di insuccesso che nel caso con successo e questo significa che dal punto di vista pratico i posti sono appostanti. Vi ricordo, alfa è il fattore di carico, accessi di memoria intendo che se io devo scandire una lista di due elementi dovrò guardare il primo elemento, guardare il secondo elemento e scoprire che non c'è un terzo elemento da cui questo valore 3 che vedete qui.